Oggi ci sono i social, abbiamo due leader che stanno cercando di fare un governo che sono molto legati al rapporto con i social che è un elemento di cui secondo me non si parla abbastanza perché è chiaro che è molto parziale il quadro che ti fai se ipotizzi il consenso e il dissenso legato alla tua presenza sui social e di questo davvero si parla ancora troppo poco. Ho fatto io stessa una proposta di legge per la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare e lo dico e mi fermo, proprio sul tema di come vengono utilizzati i dati dei social in termini di manipolazione del consenso politico.